Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per veicolo fermo o in avaria in A1 tra Valdichiana e Monte San Savino verso nord. Per incidente in A11 tra Capanno e Rialto Pascio verso Firenze. Uno sguardo al traffico ferroviario per un temporaneo guasto. Corso al treno, il regionale 18260, Livorno Centrale, Firenze e Santa Maria Novella sta viaggiando con 32 minuti di ritardo. Per il traffico urbano di Firenze, quest'oggi 28 agosto, per la partita Fiorentina-Napoli sono previsti provvedimenti di mobilità in zona a stadio. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio!